in piazza san giovanni e qui si tiene saduva è tutto pronto per stasera domani per domani è stata stato portato questo albero normalmente un albero che già non è più produttivo vedete deve essere forato perché poi fuoriesce tutte le scintime dal tronco dell'albero e questo ormai da tanto tempo è diventato il luogo dove si fa la turma la piazza di san giovanni l'assessore alla cultura simona mele poi ci dirà appunto qualcosa su questa chiesa ma anche sulla tuva guardate che scenario veramente continuiamo ad essere a Nurbello Nurbello che offre davvero tanti siti nuragici abbiamo visto megalitici chiesastici del fumetto e poi anche il museo dell'arma dei carabinieri ecco siamo proprio alla vigilia della festa domani appunto sarà acceso nel per noi adesso siamo pronti ad ascoltare l'assessore della cultura allora prestiamo attenzione diamo la parola all'assessore della cultura che ci parlerà di questa chiesa e delle sue tradizioni grazie 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 Grazie.